buongiorno buongiorno è comoda questa rampetta qui signori e signori buongiorno benvenuti in questo nuovo video oggi prima vera uscita stagionale ghisallo con noi anche il buon daniele la sua bellissima r1 vediamo di divertirci insieme e facciamoci questo ghisallo ma che spettacolo la giornata è perfetta c'è la temperatura incredibile questo cosa fa qualcosa stai facendo che cosa fai non si sa ma ci metti in mezzo alla strada ma che spettacolo questa telecamerina qua la gopro oggi mi sta facendo dannare ma stai neanche riprendendo gopro a mattia 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 adesso sta riprendendo la gopro non so doveva la strada non so doveva la strada non so doveva la strada non so doveva ah qua me la ricordo sono venuto giù di lì una volta da qua è bella da qua è veramente bella ma che spettacolo aha ahah Eccoci qua Tappo a panino Tappo a panino Tappo a panino Tappo a panino